Alberi di olivo colpiti dalla xylella forgiati con rame e stagno. La rinascita simbolica dei giganti buoni del Salento avviene in questo piccolo laboratorio di Cavallino grazie alle sapienti mani di un artigiano. Per realizzare ognuno di questi bonsai Giuseppe Pastore ha impiegato quasi un anno. Ore ed ore di lavoro certosino passate a saldare una ad una migliaia di foglioline e minuscole olive. Questi olivi si realizzano forgiando rame e stagno, costruendo con i fili di rame si intrecciano e poi si rivestono con lo stagno, col fuoco logicamente, viene il tutto riscaldato col fuoco. Ogni albero quante foglioline presenta? Allora questo ha di circa 3.500 con 1.700 e 1.800 olivi. Questo invece ha 1.300 foglie perché sono un po' più grandi e poi questo è l'albero colpito dalla xylella che è moe e ricacciato insomma in fase di crescita ancora. Il risultato sono alberi prosperi e ricchi di frutti. Un messaggio di speranza per la pianta simbolo del Salento e contro quelli che lo stesso artigiano definisce ingiusti abbattimenti. L'auspicio è quello di risolvere questo problema evitando gli abbattimenti e sperando che non sia stata una manovra organizzata. E' quello di risolvere questo problema. Ma c'è qualcosa? La luce è cosa che non sia mai e che fa Il risolver questo problema è un'azie Grazie a tutti.